Il 2022 è stato caratterizzato da un'inflazione galoppante e che si sta dimostrando persistente nonostante gli interventi delle banche centrali. È una situazione che vi preoccupa anche per il 2023? Sì, soprattutto se le banche centrali continuano ad aumentare i tassi di fronte ad una crisi di forniture e non una crisi di vendite. Quindi stanno operando a rovescio, secondo me. Abbiamo una previsione di Prometea che chiude con uno 0,7% o più, che significa, avendo visto i dati di metà anno, che nella seconda metà dell'anno c'è stato un rallentamento. Una scelta è quella di, se c'è da tenere fermo 15 giorni un impianto, conviene farlo a gennaio piuttosto che ad agosto. Questo mi sembra abbastanza logico. Ci sono fermate molte anche per ristrutturazione di impianti, quindi il settore è ancora positivo e sta investendo. L'Europa non è mancata sulla gas release. La gas release è l'estrazione di gas nazionale, quindi quella è una decisione che è tutta in mano al nostro governo, alle nostre aziende estrattive. Secondo me si sta lavorando, dovremmo arrivarci. Sull'Europa è il price cap che non ha funzionato. D'altra parte il Presidente Draghi l'aveva impostato in un certo modo, poi ci sono dei paesi che stanno straguadagnando da questa situazione e ci vorrebbe un governo centrale europeo che dicesse basta, equilibriamo le cose, perché non è possibile che un paese come l'Olanda diventi ricco per qualche generazione, mentre noi perdiamo il posto di lavoro. sono.